E va al Pur Suttirol di Merano l'SMG Marketing Award 2010, il negozio specializzato in prodotti regionali di alta qualità a prezzi accessibili vince sia il premio della giuria che quello del pubblico. Pur Suttirol è il vincitore dell'edizione 2010 del SMG Marketing Award. Tra i 24 progetti in concorso, la giuria specializzata ha dunque scelto il mercato dei sapori che si trova in Corso Libertà a Merano e che ha conquistato anche il premio del pubblico destinato al progetto che tramite internet ha ricevuto più preferenze dagli invitati alla premiazione. Ecco i vincitori a spiegare i segreti di questo successo. Dal nostro parere è la semplicità e dall'altra parte anche la collaborazione con i nostri fornitori, con i nostri partner e con i nostri collaboratori. Per noi è importante comunicare tutto quello che viene fatto in maniera particolare in Alto Adige, dove negli ultimi anni tantissimo è successo non solo nel reparto del vino ma anche nel reparto degli alimentari. Noi vogliamo essere la vetrina dove questi prodotti possono essere vissuti, comprati sotto un unico tetto nel nostro postuito, nel nostro mercato dei sapori, nel tour house a Merano. A consegnare il premio, consistente in una scultura in legno e un assegno da 5.000 euro, hanno provveduto l'assessore provinciale Hans Berger e il presidente di Alto Adige Marketing, Reinhold Marsoner. L'edizione 2010 è stata la nona nella storia dell'SMG Marketing Award, i cui criteri di assegnazione prevedono che il progetto non sia solo un'idea, ma sia già stato messo in pratica. E' stato un vero e proprio award, non è stata soltanto una presentazione di idee, ma tutte le idee hanno dovuto essere già realizzate, con soldi propri, hanno dovuto provare che nell'economia hanno un certo status. Il premio di quest'anno è stato anche l'ultimo ad essere conferito in questa forma. Abbiamo altri award in altri settori dell'economia locale, del TIS, del BLS e anche dell'EOS per l'export e secondo noi non fa senso di avere quattro award diversi, ognuno per sé molto bello, è valido, ma fa molto più senso di metterli tutti assieme, fare una notte di tutti i award dell'economia locale e con questo penso che la piattaforma sia più valida, più forte e il successo sarà anche maggiore. Pressoché scontata la data della prossima notte degli award, che non potrà che essere l'11 dell'11 del 2011.